e allora qui nello studio di vera mattina si ride si sorride perché il clima si fa scottante adesso però un po' vedrete quello che succederà già stanno accadendo delle cosine tra le nostre ospiti perché perché parliamo del caso della settimana non un semplice tradimento che di per sé ormai non fa più notizia quando si tradisce il proprio marito o la propria moglie no abbiamo superato questo ma la superstizione cioè come l'amore si lega alle vecchie credenze e partiamo dalla telenovela se è proprio il caso di dirlo tra Banda Nara e Maurito Icardi e abbiamo preparato questa copertina a Grazie a tutti Abbiamo visto i ritagli dei titoli di giornale su quello che è diventato un vero e proprio caso perché non stupisce tanto il tradimento quanto più quello che ha detto Vandanara, ovvero la donna tradita rispetto al tradimento del marito. Mauro è solo vittima di un filtro d'amore. Ma ci possiamo credere a queste cose ancora nel 2021? Lo chiediamo ai nostri ospiti. Io vi presento intanto Vincenzina Cicconi che ha scritto un libro molto carino e molto divertente che abbiamo presentato anche qui negli studi di Vera Mattina. Vincenzina, nonna passamele a media, buongiorno. Vincenzina ben ritrovata. In questa raccolta possiamo dire tra vecchie tradizioni, vecchie credenze, insomma tutti noi ci siamo potuti rispecchiare rispetto anche a quelli che erano i racconti dei nostri nonni quando eravamo più piccoli e parleremo tra poco anche di questo. Vado poi dalla dottoressa Veronica Leone, psicologa. Buongiorno dottoressa ben ritrovata. Buongiorno a tutti e buongiorno agli ospiti. Saluto Giaite Prado, cantante. Perché Giaite è qui? Ovviamente perché noi vogliamo indagare meglio sulla cultura sudamericana che è foriera di questo tipo di credenze. E poi in collegamento con noi c'è Giacomo Galeazzi, giornalista della stampa. Buongiorno Giacomo, ben ritrovato. Buongiorno, grazie, buongiorno. Suo, tra gli altri, il libro Gli artigiani del diavolo, edito da PM, in cui si è occupato insomma anche di Sette, scritto a quattro mani insieme a Donaldo Bonaiuto. E tra poco insomma parleremo anche con lui della potenza insomma di queste credenze, di quanto siano effettivamente molto più radicate del rapporto anche alle volte conflittuale con la fede e la religiosità. Ma vado subito dalla nostra dottoressa, perché qui si parte da un tradimento e poi bisognerebbe capire anche che cosa c'è dietro il tradimento. Lo diremo, lo diremo. Lo diremo. Fino ad arrivare insomma a filtri d'amore, agua de tanga e poi Giaite proverà a spiegarci insomma in soldoni di che cosa si tratta. Una traduzione così dall'italiano, dallo spagnolo all'italiano, rapida. Dottoressa, ecco ma è possibile nel 2021 credere ancora a queste cose, cioè che gli uomini poverini siano vittime di questi incantesimi, i filtri magici? Allora in realtà vittime, io prima leggevo Icardi vittima di un filtro d'amore, quindi che ha tradito la moglie perché è stato diciamo manipolato, influenzato da questo filtro, no non ci credo, non credo sia una vittima. Nel tradimento si sceglie, si sceglie di mettere in atto un qualsiasi tipo di azione, non è mai un errore perché quando si compie il tradimento non ci si sente in colpa. Anzi se si chiede a chi di solito tradisce uomini o donne, non parlo solamente di uomini, dicono io non mi sentivo in colpa quando ho tradito. Ovviamente dopo per giustificare la cosa si tende a dire no l'ho fatto perché sono stato vittima di, ma in realtà è solamente una giustificazione. Ma che ormai non regge più eh, ormai non regge più niente, altro che filtro d'amore, altro che intrugli. Eh Vincenzina, ma di un po', funzionavano al tempo questi intrugli d'amore, i legami, i legamenti, come si chiamavano? I miracoli della mente. I miracoli della mente? Sì, funzionavano e funzionavano, non lo so, insomma, comunque ce n'erano abbastanza. Per lo più era, diciamo, il Louvre era quello che meglio rappresentava, insomma, il filtro. Ce n'erano anche altri molto forti, molto pesanti e qui parliamo di quasi magia nera, insomma. Comunque funzionavano anche i santi, venivano presi in considerazione e davano un grande aiuto da Santa Scolastica, per esempio, San Cipriano, gli Arcangeli, Gabriele, Michele. Quindi questi davano un aiuto. Ma che cos'è Louvre? Spieghiamolo a chi magari non lo conoscesse. È una specie di talismano che veniva realizzato da persone addette o che erano nate col velo oppure… Che vuol dire, spieghiamo anche questa cosa, perché c'è tutta una tradizione, che vuol dire nascere col velo? Nascere col velo significa nascere con la placenta senza che la placenta si rompesse, insomma. Quindi ancora avvolto nella placenta e quello rappresentava un po' il manto della Madonna che proteggeva questa persona e dava a questa persona delle doti capaci di guarire, capaci di fare delle energie positive che, diciamo, riuscivano a interferire sulla vita delle persone. Quindi questi brevi dovevano essere fatti non da chiunque. No, no, assolutamente. Se io avessi imparato non avrei potuto farlo, perché magari non una predestinata, diciamo. Non era predestinata e un po' all'interno, tra sacro e profano, si creava questo intruglio di palma benedetta, il sale, la cera della candelina della candelora e poi si scriveva un biglietto. In questo bigliettino si scriveva a che cosa doveva servire lo breve. Se era per trovare marito, se era per togliere le negatività, se era per proteggere dall'occhio cattivo, insomma. E poi si portava con sé sempre? Sempre, non doveva cadere per terra, perché altrimenti perdeva la sua potenza e soprattutto non doveva essere scambiato, perché nelle famiglie tutte ce l'avevano l'ombrevo. Era questo sacchettino dove veniva scritto con il punto croce o il punto erba la lettera del nome praticamente... Del proprio amato. No, della persona protetta. Ecco, e quindi non doveva essere scambiato e una volta, per caso, non so, fosse caduto per terra o scambiato, allora assolutamente doveva essere o bruciato oppure buttato nell'acqua, perché l'acqua toglieva, diciamo, le impurità raccolte magari con il contatto a terra. Tra sacco e profano, un assist che mi porta immediatamente da te, Giacomo Galeazzi, che tra l'altro è vaticanista della stampa, quindi insomma si occupa spesso di queste tematiche, lo ha fatto in uno dei suoi ultimissimi libri, di cui abbiamo anche la copertina, prego la regia se ce lo può mostrare. Qui, Giacomo, vogliamo parlare dell'argomento chiaramente in termini leggeri, sappiamo che esistono tante sfumature, no? Anche di intenzionalità nel chi crede in determinate cose. È chiaro che il taglio che tu hai dato al tuo libro è estremamente diverso rispetto, insomma, alla leggerezza con la quale si sta colloquiando qui. Però è un fatto, è una realtà che comunque esiste. Sì, sì, però Jessica, l'impostazione del caso Icardi Nara purtroppo attraversa varie tematiche. Una, sicuramente, e questo lo dico più in termini giornalistici, è che spesso la presenza, la disponibilità di mezzi economici molto elevati, ma l'assenza di strumenti culturali altrettanto adeguati, porta poi a fare anche dei grandi disastri. Perché ci sono, e si vedeva nella vostra scheda filmata, me ne sono occupato anche ieri per la stampa, anche dei guai giudiziari legati alla vicenda. E, diciamo, l'aspetto così boccaccesco, quasi farzesco della vicenda, però, nasconde un fenomeno che attraversa anche la nostra società. Trentamila italiani ogni giorno vanno da maghi e fattucchiere. Sono tredici milioni all'anno gli italiani che fanno ricorso ai sedicenti guaritori o maghi per filtri d'amore o strumenti improvvisati di guarigione. Ricorderete la vicenda clamorosa in Italia, diciamo, che ha attraversato varie generazioni, quella di Vanna Marchi, che vendeva del sale, a suo dire, miracoloso, e truffò fino in carcere per questo. Quindi non possiamo confinare la vicenda, diciamo, ad aspetti soltanto farzeschi che pur ci sono. Aggiungerei che parliamo di un business di 8 miliardi all'anno solo in Italia. Ricordo proprio durante il viaggio di Papa Francesco in Brasile, di fronte all'albergo nel quale stavamo noi vaticanisti, c'era stabilmente una signora anziana che faceva fatture d'amore. Mi feci spiegare poi da un collega brasiliano che la commissione a cui tu accennavi di religione, di finta religiosità e superstizione è fortissima in America Latina. Non solo lì, ma in particolare, e vorrei citare proprio le sette che tu richiamavi, ci sono sette proprio che si basano su degli artifici spesso anche sincretistici che portano a mettere figure della religiosità, figure della fede autentica, dentro invece costruzioni di pura superstizione con un misto ovviamente che poi porta a travisare il senso della vera fede e anche, e concludo, a ingannare, spesso anche ad approfittare della buona fede delle persone. Certo. Ecco, non è un caso che noi questa mattina abbiamo in studio anche Giaite Prado, che è cubana, poc'anzi Giacomo accennava, insomma, come paradossalmente la popolazione americana, che è una delle più strenuamente attaccate alla propria fede, alla propria religiosità, poi sia anche così fortemente connotata da, insomma, queste credenze rituali e quant'altro. Quindi immagino che per te quello che ha detto Vandanara sia, come dire, una cosa che si sente abitualmente, non ti ha toccato. Diciamo che l'acqua dei tanga è efficace sempre. Aiuta. Cos'è l'acqua dei tanga? 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 Aspetta, aspetta, faccio una premessa, perché sono le undici e un quarto del mattino, quindi non vogliamo assolutamente… No, no, no. Quindi cerchiamo di spiegarlo in termini consoni. Da quello che posso immaginare, l'acqua dei tanga, diciamo, lo slip femminile… Viene lavato, inciacquato, una vaccinella, quello che si trova… Con l'acqua? Sì, si cola su un bicchiere e se le dà avere, non lo so, mischiato con altro, così magari non capisce che è solo la mutanda lavata. Ah, ok. Cioè l'effetto deve essere, deve lasciare intendere che ci sia qualcosa in più oltre l'acqua, è questo che mi stai dicendo? No, no, no. Magari chi fa queste cose le dà avere questa acqua, senza che lo sa. Senza che lo sa. Però penso che… Io questa cosa non l'ho fatta mai. Lo so che se fanno non l'ho fatta mai. Però… Eh, dicono tutte così, eh? No, no, per carità. No, no, no. No, 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 è da me. Però penso che quello che non ci aiuta più di tanto è la cultura nostra latina, perché abbiamo un carattere molto forte, molto passionale, pieno di carica erotica, pieno di conflitti. Il rapporto si vive in un modo che qua non è così. Non ti dico che siamo piatti, perché anche gli italiani sono latini, però noi latini soprattutto Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, è una guerra, l'amore è una guerra. C'è alti vasi, c'è il cuore sempre, stai qua, stai là. È quasi pacifico, cioè fa parte, no? Io penso che comunque essendo una società così, forma parte anche di quello, perché tante volte uno non vuole fare una cosa, però io penso che ci sono certi patroni che si ripetono sempre. Sì, è quello che tu vedi che fanno i tuoi amici, la famiglia, i tuoi genitori, i parenti. Diventa per te la normalità. Sì, sì, se può tenere proprio genetico penso che sia il tradimento, quasi, penso che sia una cosa anche genetica. Ma cosa succede a Cuba quando una donna scopre che il marito l'ha tradita? Guarda, a parte che già sia l'uomo che la donna, c'è una gelosia infinita che non finisce mai. Non lo so se forma parte di un gioco del ruolo, io non... Sì, sì, io per esempio, il primo fin da stato che ho avuto, che avevo 19 anni, cioè io mi ricordo che quando sono uscita con lui, non potevo uscire dalla parte di là del marciapiede, dovevo uscire dal lato di qua, se qualcuno mi guardava, prima di uscire da casa come sei vestita. Oh, signore, cioè, era incredibile. Io sono rimasta... Infatti, mi sono molto sanata, penso che mi sono molto sanata, reeducata come persona, anche se sono sempre passionale, gelosa, però riesco di più a gestire la personalità. Mi sono educata moltissimo, perché forse anche la mia natura è più romantica. Però, ti giuro, mi sono molto educata, perché da noi l'amore è una guerra, il tradimento è una cosa normale. Una moglie quando sa che l'hai tradita, o va da quella lì, la fa uscire fuori, le strappi i capelli. Ah, ok, ma è una soluzione pacifica e a modo. È una soluzione molto pacifica, molto alla mano. Vieni fuori, che ti sto aspettando qua sotto. Cosa? Ti prendo un assimilumino. Cerca, dottoressa. La prego. Scusa, dottoressa, si chiamano anche i carabinieri per caso? Ci arriva il carabinieri e dice, ah, questo è il problema tra voi due, sistematela come volete, a meno che mi schiari in questi problemi. Ottimo, sarei di dire. Ottimo. Le lasciano staccarsi i capelli a vicenda. No, io volevo dire una cosa, che di solito la gelosia, la possessività, il non volere che l'altro faccia determinate cose, ha poco a che fare con l'altro e tanto a che fare con noi. Con se stesso, sì. Sì, su quanto noi ci diamo importanza e sul valore, sull'autostima che noi abbiamo. Questo. Cioè, se io non permetto all'altro di essere libero, vuol dire che c'è un qualcosa che riguarda me? E' un fatto vero. Che è risolto. E' un fatto vero, nel senso che è una cosa egoistica. E soprattutto perché tu pensi di quello che fai, pensa che gli altri si comportano come te. Però quello che noi aiuti nei paesi latino-americani, che è una cultura, è un modo di vivere. Quello che, per esempio, ci sono cose negative, non tutti sono così, diciamo. Per esempio, ci sono diversi tipi di magie che si fanno. Si vuoi di pensare a qualcuno, magari si vuoi sistemare qualcosa. Allora, sai cosa facciamo? Intanto ci guardiamo questo servizio, perché a proposito di quello che diceva Giaite prima, prendeva le distanze, io non l'ho mai fatto, io non l'ho mai fatto. Tante, sicuramente è vero, noi lo prendiamo per buono, ma sono tante le persone che in realtà si nascondono dietro a Ah no, ma io a queste cose non ci credo. E poi invece sotto sotto, sotto sotto. E sono molto di più di quello che pensate. Vedete, guardate. Per gli inglesi è martedì 13, per gli italiani venerdì 17. Quest'anno, nemmeno a farlo apposta, il calendario lo ha segnato proprio in occasione della giornata mondiale contro la superstizione, il cosiddetto Gatto Nero Day, caduta il 17 novembre. Ma davvero nel terzo millennio c'è ancora chi crede nella sfortuna ed è scaramantico? Secondo quanto emerge da un'indagine condotta da Mythic, il leader europeo nel dating, la community italiana di single coinvolti conferma con il 59% di essere superstiziosa. Eppure, solo il 20% ammette di possedere un amuleto capace di proteggere dalle iatture e aiutare nelle difficoltà. La maggioranza si accontenta di una toccata di ferro e passa alla paura. Tra le credenze più comuni, come afferma il 23% dei single, è lo specchio rotto, quello che fa più paura, seguito dalla bottiglia di olio in frantumi con il 18% delle preferenze e il Gatto Nero che attraversa la strada col 13%. Percentuali nettamente inferiori per il sale rovesciato, la paura del numero 17, il carro funebre, il passare sotto una scala, l'ombrello aperto in posti chiusi, la scopa sui piedi e il cappello sul letto. Insomma, una serie di stranezze che trovano ancora un audience notevole nel bel paese e nel mondo. Bene, il 34% degli italiani ammette di utilizzare diversi portafortuna per affrontare situazioni simili, dalla tenera coccinella alla classica toccata di ferro, all'intramontabile quadrifoglio. Perdono smalto e diventano quasi desueti il mitico cornetto rosso e l'aglio. E se persino nella smorfia napoletana il numero 17 indica a disgrazia, nel linguaggio dell'amore è un plus che rende chi è scaramantico e superstizioso un pizzico più intrigante agli occhi dell'altro. Sarà perché l'amore è cieco? Ha cupido l'ardua sentenza. Alla superstizione tutti ci credono ma nessuno lo dice. Abbiamo lanciato anche un sondaggio, vi abbiamo proposto questo sondaggio sulle nostre pagine social di Veramattina per tastare un po' il terreno e chiedervi che cosa ne pensate. Filtri d'amore, solo superstizione. Vi leggo qualche commento. Ad esempio una telespettatrice scrive «Penso sia ridicolo nel 2021 credere a certe assurde superstizioni. Il fallimento va elaborato seriamente, non rifugiandosi dietro a queste scuse banali. Se no, non lo si supera mai veramente. Credere che esista ancora le medisir d'amore, scrive Angela, come nell'opera di Donizetti mi sembra davvero da disperati. Gli amori come nascono possono finire e bisogna accettare la mutazione». Vandanara è libera di rifugiarsi in questa convinzione per sfuggire alla realtà dei fatti. Dottoressa, a questo punto mi aggancio inevitabilmente a lei. C'è un fatto di mancata presa di coscienza, di scarico delle proprie responsabilità, questo dire? Sì, anche forse un non voler vedere, non voler vedere che la persona a cui si è legati abbia in un qualche modo tradito la fiducia, perché è poi quello che succede nel tradimento, tradire la fiducia della persona che si ama. Ma perché si tradisce, dottoressa? Ecco, questa è una domanda. La domanda delle domande? Sì. È banalissima, no? Però… Allora, no, in realtà non è una domanda banale, è banale se se ne parla in modo banale. Ecco, la maggior parte delle persone risponderebbe che viene a mancare qualcosa all'interno della coppia, quindi mancanza di dialogo, scarsa attenzione, non so, magari si era basata la coppia su un determinato tipo di impostazione e poi quell'impostazione viene a mancare, ma in realtà, Jessica, anche le coppie felicissime tradiscono. Aiuto! E questa è una notizia. Io prima ne parlavo con le nostre ospiti. Nessuno è salvo, Giacomo, senza che ridi, eh? Anche le coppie felicissime tradiscono. È vero, ci sono state fatte tantissime ricerche, io ne ho fatto una tesi magistrale proprio sugli aspetti psicologici e sessuologici nell'infedeltà di coppia, concentrandomi proprio su questo aspetto, sul perché anche le persone felici tradiscono. E ne è emerso che la trasgressione è centrale nella natura umana. Fin da piccoli, Jessica, se ci facciamo caso, i bambini amano giocare a nascondino, amano nascondersi e provano un'estrema eccitazione poi nell'essere scoperti. Questa cosa la sapevate, penso. Non ci avevo mai riflessuto, effettivamente. Penso di no, provano un estremo godimento. Però essere scoperti, insomma, in flagranza di tradimento, così piacevole. Sì, ma sono poi dei meccanismi che si mettono in atto, che riproponiamo da adulti. Jack Maureen, un famoso sessuologo, non so se il giornalista qui conosce, ma è molto famoso, ha scritto vari libri, ha proprio analizzato questo aspetto e ne ha dato un'equazione erotica. Attrazione più ostacoli uguale eccitazione, ovvero più una cosa è proibita, più una cosa non si deve fare, è più la nostra curiosità va verso quella cosa, quindi anche le coppie felicissime tradiscono. È il gusto del proibito, Giacomo? Sì, io credo che la settimana scorsa si è parlato di trasgressione nella sessualità e a me ha colpito molto, è stata per me un'esperienza molto interessante perché ad esempio il professor Bossi, il sessuologo, ha parlato proprio di immaturità sentimentale, cioè di mancata educazione sentimentale. Beh, anche questo rientra in una mancata educazione sentimentale. Non è che perché sono miliardari e riempono le cronache rosa, dei gossip, questi calciatori o modelle come la Suarez non sono in qualche maniera, non rientrano nella definizione di irrazionalità. Il census ha censito che il 10% degli italiani crede che la Terra sia piatta e crede che l'uomo non sia mai andato sulla Luna. Quindi l'irrazionalità che porta alla superstizione è la stessa ad esempio che su un piano ben più grave porta ad esempio a rifiutare i vaccini, cioè si rifiuta quello che è logico e razionale e ci si rifugia invece in spiegazioni di comodo, a ragione la dottoressa, piuttosto che affrontare in maniera analitica, in maniera razionale una crisi di coppia, si attribuisce la responsabilità a un incantesimo, a un filtro d'amore, a qualcosa di assolutamente irrazionale, proprio perché non c'è stata un'educazione sentimentale, una formazione che ha portato ad esempio ad affrontare le questioni senza nasconderle. Io vorrei solo citare ad esempio una delle sette che ho analizzato per il libro, ma sembra incredibile, ma è così. Era una setta proprio che si basava sulla doppia vita dell'uomo. Cioè l'uomo era legittimato all'interno di questa setta di origine protestante ad avere una doppia vita, mentre la donna doveva essere in qualche maniera l'angelo del focolare. Ecco, quanti stereotipi, quanti archetipi culturali favoriscono questo tipo di mentalità? Noi la vediamo estremizzata nei fenomeni settari o nei fenomeni della superstizione. Ma ha ragione la vostra ospite. Quando sono stato a Cuba, sempre in un viaggio papale, l'altro aspetto che mi aveva incuriosito era proprio questa continua commistione tra elementi apparentemente religiosi e poi invece derive totalmente irrazionali. Ecco, io vorrei citare soltanto l'enciclica Fides et Ratio, fede e ragione. La fede non è irrazionalità. Cioè, iniziamo a porci delle domande quando sentiamo invocare cose estremamente implausibili in nome della fede. Se qualcuno vi propone un talismano o vi propone un filtro d'amore per riconquistare la persona amata, magari rivolgetevi a uno psicologo, rivolgetevi a una consulenza qualificata piuttosto che affidati a Cialatani. Questo è un appello giustissimo e importantissimo perché poi sarebbe interessante anche parlare delle derive che credenze così profonde possono avere in soggetti che magari si trovano ad affrontare un momento delicato della propria vita o che hanno già una personalità fragile, dottoressa. Vorrei tornare però da Vincenzina, anche per un commento rispetto a quello che si è detto finora. Lei ha raccolto in questo libro, Nonna Pasta Melamedia, una serie di antiche credenze, racconti e lei lo ha fatto specificando. Io non credo a nulla di tutto questo. Assolutamente, assolutamente. Non sei superstiziosa? No, no, no. Ho i miei gatti neri, quindi, che attraversano la strada. No, assolutamente. Nessuna superstizione. E nemmeno lo breve o qualche volta dico, vabbè, metto il sale in giardino perché il mio giardino è troppo bello, quindi per l'invidia, manco ce lo metto, insomma. Ma c'è un racconto che ti faceva proprio paura, magari da piccola? Sì. Qualcosa che ti inquietava? Io ricordo, ero piccola e stavo a casa di mia nonna in un paese dell'entroterra e c'era una famiglia lì vicino che quest'uomo torturava la moglie fino ad ammazzarla, cinque figli e le urla che si sentivano a distanza. Nessuno poteva intervenire perché, insomma, a quei tempi quello che succedeva in famiglia rimaneva in famiglia e tutti al paese dicevano che lei per sposarlo gli aveva fatto un filtro d'amore che poi si è ritorto contro. Sì, si è ritorto contro e che, insomma, un po' forte come, sì, gli aveva fatto bere il sangue, tre gocce di sangue delle mestruazioni e dice che gli aveva offuscato il cervello, insomma, la mente. Ecco, e questo fatto me lo ricordo e, insomma, ancora sento. Anche perché, dottoressa, è pericolosissimo, no? Quando ci si relaziona e si spiegano queste cose ai bambini, no? Sì, assolutamente sì. È molto pericoloso e bisogna avere anche un certo, come dire, un certo tatto. Cioè, spiegare una violenza, spiegare un abuso, spiegare una cosa di questo tipo. Ma che poi, Jessica, tanti bambini l'abuso lo disegnano, quindi non è una cosa tanto anomala. Parlo per me, giustamente, che sono nel campo, non è una cosa tanto anomala riconoscere nel disegno un abuso o una violenza in un bambino, ecco. Non è una cosa inusuale per noi. Comunque, anche il paese, la gente del paese giustificava questa cosa. E quindi era quello, è stata questa reazione, diciamo, delle persone che... E tu che pensavi? Ma io... Ci crede, giustamente, era una bambina? Non lo so, insomma, non... anche perché io non è che stessi sempre lì. Quindi tutte le volte che andavo, alla sera, si sentivano queste urla. Sì, insomma, dice se lo meritava, perché... Poi non si poteva nemmeno tornare dalla famiglia, perché... E' inquietante. Sì, questa è una cosa che ricordo molto. E diciamo che fortunatamente siamo andati avanti. Sì. Adesso le violenze si possono denunciare. Prima forse c'era anche un attimino di ignoranza. Passatemi il termine. Io penso che comunque... Capisco, capisco tutte le situazioni. Però le persone, soprattutto, che fanno, che credono in queste cose, e lo fanno, soprattutto perché hanno bisogno, hanno bisogno, magari, di cercare un modo per crederci. Non è una giustificazione, perché è una questione anche culturale. E... E' difficile affrontare la realtà. Noi tutti abbiamo la capacità, comunque, di dire, mi tradisce, e finiamola qua. Non è una questione anche di maturità, perché comunque la maturità... Tanto arrivi a una certa età e ancora non sei maturo per affrontare i tuoi problemi. Questo, purtroppo, è un modo di vivere. È una cultura che non si può neanche stroncare completa, perché l'identità può essere che sia una cosa di ignorante, però può parte di una società, di quello che fanno qualcuno ci crede, qualcuno no. Io non ci credo. Mi fa anche un po' ridere. Te dico la verità. Mi ricordo che non diceva, guarda, perché non è nata da Cuba, si dice con la camicia. Quando, no? Con questa placenta. Con il velo. Sì. E mi diceva, guarda, se qualcuno ti tratta male, anche mette il nome suo, il nome di loro, in un fogliettino, in un sacchettino con il miele. Sono piccole cose, che comunque queste cose qua che dico, magari sono stupide, però non fanno neanche male a quegli altri. Capito? Io sono l'accordo con lei. Nel senso, forse è più comodo credere a... Le persone hanno bisogno. ...a un soprannaturale, a una superstizione, che fare introspezione, che mettersi in discussione, e come diceva il giornalista, rivolgersi ad un professionista della salute mentale. Posso dire una cosa? Sì, certo. Prego. Ma è molto interessante, diciamo così, anche la lettura, diciamo, sociologica che viene fatta. È vero, è vero quello che è stato detto. Spesso anche nei casi di violenza giustificati, con superstizione, con ritualità, c'è sempre, al fondo, una mancata presa di coscienza individuale. Ricordiamo, anche per il nostro codice, per le nostre leggi, la responsabilità individuale, però va calata, va contestualizzata, in una società che tende ad assolvere chi ha condotte, anche criminali. Cioè, io ricordo benissimo, ad esempio, in alcuni dei casi di cronaca che ho seguito, che proprio la Vox Populi, cioè l'idea che una persona fosse, in qualche maniera, segnata da una sorta in fausta, è come accade per i bambini albini nei villaggi africani. Cioè, si tende a giustificare le violenze di cui sono poi vittime in ragione di una predestinazione negativa che hanno fin dalla nascita. Cito soltanto un episodio perché credo che sia estremamente così indicativo. Quello che accade all'interno delle sette, non faccio nomi perché poi questi hanno la querela facilissima, ma vi posso assicurare che li ho riscontrati ognuno. Sono diciamo sette del potenziale mentale, potenziale umano. Ecco, ogni volta che qualcuno tenta di staccarsi immediatamente gli viene riversata sopra, gli viene riversata contro a tutti i fuoriusciti una sorta di maleficio per aver rotto il legame, l'appartenenza, la setta al gruppo. Ecco, che cos'è questo in realtà? È quello che accade in una coppia in piccolo quando una delle due persone cerca di uscire da un rapporto malato e immediatamente viene definita come una persona ammalata di mente, deviante, tutte caratteristiche che non ha, ma che gli vengono attribuite per giustificare quella che è semplicemente una presa di coscienza e l'uscita da un rapporto malato. se tu mi lasci vuol dire che sei una strega, vuol dire che sei una persona assegnata dal malocchio, quindi non c'è come è accaduto per Van Danara e Mauro Riccardi, cioè non c'è una coppia in crisi in questa descrizione ma un maleficio, un sortilegio fatto da una strega esterna. Il problema è sempre esterno alla coppia ma interno, viene proiettato all'esterno quello che è un male interno alla coppia. Evidentemente sì, ci sarebbe molto molto altro da dire purtroppo però noi siamo soggetti alle regole della pubblicità e quindi ci dobbiamo conformare a questo. Io approfitto per ringraziare tutti i miei ospiti a cominciare da Giacomo Galeazzi giornalista della stampa che come sempre si è reso disponibile e ci ha offerto ottimi e interessanti spunti di riflessione anche prendendo le mosse da quello che è la sua vasta esperienza nella cronaca. Ricordiamo il suo libro Gli artigiani del diavolo è detto da PM un libro estremamente interessante grazie alla regia per aver mostrato la copertina saluto anche Vincenzina Cicconi autrice del libro Nonna Pasta Milan Media un libro che io ho avuto modo di vedere di leggere impreziosito anche da delle illustrazioni molto carine e vogliamo dire e vogliamo dire Vincenzina in conclusione perché lei ha sempre Paola dice ma non è che poi passo per quella che fa la fattucchiera assolutamente no si è capito l'avete capito voi assolutamente che invece ha svolto un ruolo prezioso perché si è occupata di trascrivere tutto quello che invece apparteneva alla tradizione orale poi sta all'intelligenza di ciascuno di noi capire che si tratta semplicemente di ricordi se vogliamo anche affettivi che ci legano al passato quindi abbiamo fugato ogni dubbio va bene Vincenzina grazie grazie Vincenzina Cicconi grazie naturalmente alla dottoressa Veronica Leone grazie a voi psicologa come sempre i suoi argomenti ci hanno aiutato a indagare meglio e poi io ho scoperto anche che tradiscono le coppie felici quindi indagherò anche le coppie felici anche di più anche di più benissimo anche di più benissimo bene mi sento sollevata mi sono single di una vita ah già e te c'è qualcosa che non va perché una come te insomma single è una questione della cultura italiana le donne con figlie non esistono più ma dai dai no queste cose non le vogliamo sentire non è vero assolutamente non sto bene così stai bene bene l'amore arriva all'improvviso alle volte speriamo l'importante è che ci fa stare meglio di come stiamo quando siamo soli so che hai portato anche tu il tuo libro di poesie sì sì è una raccolta di poesie perché già e te è una cantante e anche una poetessa in spagnolo o in italiano? in italiano e in spagnolo tutti ma mi dici una frase in spagnolo in conclusione anzi anzi lancia la pubblicità lancia la pubblicità di mi povere poesie è una raccolta di poesie soprattutto parla delle donne di quello che ci lega a noi come donne che è l'amore ai figli al lavoro affrontare sempre la vita quotidiana anche se sei ferita sonridere e andare avanti tutto qua è tutto qua allora me la lanci la pubblicità in spagnolo? ora la pubblicità per favore esperate qui che seguite in vera mattina sicuro? attra poco